Allora eccoci qua con il nostro non dormente amico come ti chiami? Valerio. Ciao Valerio Leonardo il tuo video accompagnato da? Stefano. Ciao Stefano tanto piacere. Piacere. Allora sei pronto al lancio? Ma che festeggiate qualcosa? Mettetevi vicino mettetevi vicino. Weekend estremo ma com'è che ne avete dormito ieri sera? Dove siete stati in giro? Siete di Roma o di Roma. Ok. Allora regà divertitevi mi raccomando al prossimo lo fai pure te eh? Te no niente? Io dai alla prossima. Allora mi raccomando divertiti sorridi per aria dai godito vai ci vediamo dopo vai Traga. Allora. Ah zopp! no, non è il tonico è uno dei pochi che voglio bene non ci saranno più ah ma che capello che sa fatto sta ora oh 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 non lo sai non lo sai oh 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 bello eh dai che vado ma che sa tu stai oh la barina dove eeehh 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 oh e saluto saluto 2 3 Oh guarda un po' se me la freccia E vai, vado, guarda un po' Oh guarda me l'uscita eh, fratello Vado verso il giugno Bella, fratello Dai, è bello Bella, fratello Over the pop Over the rainbow Dai, veloci Oh 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 Lasciami Un, due Vai All right Grazie a tutti. Mamma mia quanto camminava da paura. Sulle gambe, sulle gambe. Grande, ma che è il rally? Allora, com'è andata? Bello, eh? Vieni. Vieni, ti do una mano. Che scivolatona, ragazzi. Allora, com'è il caldo? Bellissimo. Bravo, ti ho visto proprio tranquillo, bellissimo. Sai che ha detto che c'è la rota? No, ma è proprio tranquillo. Secondo me è lo sport tuo. Stai gli occhiali. Allora, ci vediamo alla prossima, frate. Bravo, complimenti al cura. Dai. Grazie. 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 Grazie.